Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762, domenica 6 aprile. Ariete, un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza dei vostri standard. Colpa della luna in cancro che apporta intralci e confusione. Controllare le emotività può essere un'impresa nel corso di una discussione in famiglia. Incomprensioni. Toro spalleggiata da Nettuno in pesci, la luna in cancro assicura momenti meravigliosi e la serenità in famiglia ne sarà una conseguenza immediata. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner, sarà un buon modo per rendere il clima festoso. Gemelli, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista professionale, grazie all'esperienza accumulata riuscirete a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legate alla quotidianità, studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma. Cancro, problemi in apparenza insolubili, si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L'intuito si allea alla logica e insieme sfurnano soluzioni prodigiose per i problemi che vi stanno a cuore. Leone, nel caso urna una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria. Vergine a senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. La luna viaggia con voi, dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dall'intuito e dalla lucidità. Bilancia, questa luna in cancro ha il valore di un banco di nebbia nella vostra esistenza, scompiglia le emozioni e vi fa perdere di vista i sentimenti. Qualora attendeste degli ospiti, siate pronti ad accettare defezioni o imprevisti dell'ultimo minuto. Scorpione, un bel trigono d'acqua a vostro favore, complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia, si ricompone, emozioni forti e tenere coccole. Giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore, in primo piano sentimenti e famiglia. Sagittario, una giornata positiva, i problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, avete ottime chance per riuscire. Prendete in considerazione le difficoltà dettate dalla gestione delle risorse finanziarie comuni. Capricorno, la minacciosa opposizione della luna vi manda a terra il primo attacco, ma di certo non siete i tipi che si lasciano sconfiggere facilmente. Sfoderando la vostra proverbiale tenacia, riuscirete a tenere la situazione sotto controllo. Aquario, qualche piccolo problema pratico rende la giornata più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo dell'organizzazione la vostra parola d'ordine. Fesci vivacizzata dal trigono di Nettuno, la luna in cancro premia l'audacia delle vostre scelte, garantendovi l'approvazione e la stima degli altri. Sentite l'appoggio di chi vi sta intorno e un piacere che non avevate proprio messo in conto. Sfoderando la vostra